Benvenuti al meteo, queste le previsioni per sabato 8 agosto. In Veneto cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualche locale nube in più nelle ore pomeridiane in montagna, in genere senza precipitazioni. Temperature minime tra i 17 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia tempo stabile, da solato ovunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime tra i 21 e i 25 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Dal meteo è tutto, arrivederci.